Dreaming of a place where the sunlight never sleeps It's a beauty color paradise Mio padre diceva sempre che le cose buone non si ottengono facilmente e che nessuna cosa di valore viene regalata La vera domanda è che cosa sei disposto a fare per vincere? e che cosa sei disposto a fare per trovare il tuo tesoro Zobby! Buttati! Non lo farà! Dai! Ah, vuoi vedere? Non ci credo! Oh mio Dio, lo fa! Perfetto! Perfetto! Perfetto!